Presidente Riccetti, di nuovo nell'occhio del Cilone, questa volta però sembrerebbe come bersaglio dell'opposizione, si parla di una sfiducia nei suoi confronti, è preoccupata? No, non sono preoccupata, premesso è concesso che il libero arbitrio dei consiglieri presenta tutte le emozioni che vogliono. Il Presidente del Consiglio, voglio ricordare, può essere anche dell'opposizione, viene estrapolato poi da quelli che sono i gruppi consigliari perché non è altro che un consigliere che comunque porta avanti i lavori del Consiglio, gestisce il dibattito, però no, non sono preoccupata, io continuo a fare quella che ritengo è una politica a favore della città e continuo per la mia strada. Siamo sempre alle voci perché ufficialmente non si espone nessuno, ma sembrerebbe che dietro questa sfiducia a cui starebbe lavorando l'opposizione ci sarebbe un suo tentennamento di firmarne un'altra di sfiducia, quella nei confronti del Sindaco Cozzolino. Guardi, per quello che riguarda si parla di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio, si parla di sfiducia nei confronti del Sindaco, quelli che sono poi le manovre tra i consiglieri di maggioranza o di opposizione spettano a loro, comunque anche in questo caso quel Presidente del Consiglio è un pochino fuori. Se si vuole sfiduciare un Sindaco, l'opposizione parla di un colloquio, una via dialettica con quegli scontenti della maggioranza, lo stesso equivale per un'eventuale sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio. Sono due cariche nettamente distinte, perché la mia è una carica elettiva, ripeto, il nostro regolamento non lo prevede, ma neanche la legge non è prevista una tutela per una sfiducia politica, perché il ruolo del Presidente del Consiglio è un ruolo molto particolare, stabilito dal Tuel, gestisce i lavori, coordina le proposte di delibera che arrivano, le trasmette alla Commissione. Infatti, se voi vedete, in Consiglio Comunale cerco di gestire al meglio quello che è il dibattito fra le varie componenti politiche. Per presentare questa mozione l'opposizione ha bisogno di 10 firme e in teoria ce l'avrebbe, però per passare questa mozione avrebbe bisogno di 13 voti. Lei sarebbe di sfiducia del Sindaco. Parliamo della mozione di sfiducia del Sindaco. Allora, ci vogliono 10 firme per poterla presentare. Per poterla far passare occorrono 13 alzate di mano. Lei sarebbe disposta ad alzare la mano? Ma da questi giochi il Presidente del Consiglio deve essere lasciato fuori. Non c'entra nulla. Cioè, sono operazioni che si pianificano in un altro modo. Premesso non concesso che qualsiasi mozione, io sono sempre nell'ottica di farla a viso aperto davanti alla città e discuterne in Consiglio Comunale, il resto sono strategie consigliate, diciamo, tra consiglieri di maggioranza e opposizione. Ma si sente vittima di queste strategie, di questi giochi politici? Beh, diciamo che... Sorpresa, dispiaciuta? No, né sorpresa né dispiaciuta. Questa è politica, poi ognuno la fa e la attua come meglio crede. Diciamo che nell'ultimo caso tirare per la giacchetta il Presidente del Consiglio non funziona così. Infatti mi sono chiesto se magari la pulpetta avvelenata non fosse stata per me che non per il Sindaco. Però non funziona così. Andiamo avanti.